Se mi lasci non vale 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 Se i tuoi programmi non ti lasceranno mai Tu puoi lasciarli quando vuoi Per la prima volta puoi provare tutto Skype per tre mesi senza impegno Questa è una novità Questo è Skype Signora le offro questi due al posto del suo Dash Ma lo vede? Questo è Dash Bianco perfetto, colori brillanti E profumo di pulito Dash non lo cambia Dash non si cambia Detro si Passa a Vodafone E per un anno raddoppi le chiamate e i messaggi verso tutti Con Vodafone hai sempre di più Da Perugina Nuovi baci in rosso Una golosa ciliegia e una morbida crema al liquore Ricoperta di puro cioccolato fondente Quando vuoi dire Dillo con un bacio In rosso E con i baci Perugina Voli a New York e vinci lo shopping Con chi vuoi tu? Per fare una cosa straordinaria Quanta cura ci vuole? E quanto tempo? Nelle tagliatelle emiliane così rubide e porose La cura e il tempo li ha messi barilla E allora basta poco Per fare un piatto straordinario Le keys Sono italiane Buoni Sembrano fatti con le uova del nonno A chi ama i sapori autentici Molino Bianco dedica il Tarallucci Il gusto della vera pastafrolla Tarallucci Molino Bianco Il piacere di mangiare sano Snellire dormendo Somatoline Cosmetiche Snellente Intensivo Notte Snellisce fino al 33% in due settimane Somatoline Cosmetiche Funziona Vedi Peciolino? Con Tele2 hai la DSL senza lenti E parli quanto tempo vuoi Senza cammettelecom Da 16 euro per 90 al mese E per un anno intero Chissà quanto potrei parlare in un anno A tu preferisci navigare Le gusti Chiama il 19-22 entro il 13 novembre Tele2 perché pagare di più? Mi chiamo Claudio Silvestri E sono il cuoco della Nazionale di Caccia Una gran bella responsabilità E io devo scegliere per loro L'alimentazione più completa Giusta ed equilibrata Al mattino non ho dubbi Frutta, latte, pane e nutella E poi vedi come vorranno a fare colazione E beh Poi finalmente faccio colazione anche io Sono campione del mondo Un colore basato dal sole Pieno di riflessi dorati Che illumina il tuo viso Per questo non resisto ai nuovi Glossy Chocolat di Casting Creme Gloss Riflessi golosi e dorati Glossy Glossy E una copertura ottimale Senza monica Casting Creme Gloss L'Oreal Chocolat, praline e caramelle I colori che tutti aspettavamo Vi piacerebbe vedere i 10 stelle della musica italiana internazionale in gara l'una contro l'altra? Noi siamo quasi pronti C'è la nostra orchestra dal vivo Il balletto pronto Ma soprattutto ci sono loro Riccardo Cocciante Madonna Pupo I Bee Gees Renato Zero Si scontreranno cantando le loro persone più importanti con Eros Ramazzotti Gianna Nannini Pino Daniele Laura Pausini In Gli Abba E starete solo voi a decidere domani sera qual è la stella più grande Naturalmente parlavo di stella giubile Conduce Lorella Coccarini Domani alle 21.10 su Canale 5